A termine del programma pieno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3-0-3 che sono scolatese. 3-0-3. Fermassi. Cassalino. Fermassi. Cassalino. 3-0-3. Fermassi. 1-0-3. 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 Fermassi. 1-0-4. Fermassi. 1-0-3. Fermassi. Se mi vedo la rossa, ovo all'esterno, mi sale, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini, e si va qui in testa, ovo in gelini Piero, la rossa, Giotto, Burro, Manini, Sani, Provento e Angelini, la rossa Angelina, la rossa Angelina, e lei, pietro di testa dico, 2-1-2, Provento, Fermarsi, Giotto, La rossa, americano, Tarini, Giulio, 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 90, e tre indiffina di scuolistica, 1 in sfida campana numero 6 a passare l'eliminazione del ciclo con un americano in testa di un po' la rosa la riti è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti.